Ciao c'è di youtube, qui con voi Shalefum6 e oggi siamo in un nuovo video Oggi ragazzi, come avete detto il titolo, come avete visto dalla miniatura, siamo ritornati in un nuovo video A meno che non siete ciechi, a meno che non siete ciechi Non credo Oh, analfabeti Oggi siamo ragazzi qui in compagnia di... C'è il cremo Ehi, fra, fra, ma è il tuo buco Ma è il tuo buco, il tuo buco, il sapevo Sorry Ti sono, ok? Cazzo, sono Ti hai fatto il migliore, il migliore, il migliore Ragazzi, siamo qui con Kazo-san, con questo nuovo video ragazzi In piscina In piscina Ovviamente Trovate il suo canale in descrizione, se non siete iscritti, iscritti, ma credo che lo conoscete tutti ragazzi E nello stesso orario, e nello stesso giorno, c'è anche il video sul mio canale Sempre fan in piscina Quindi lo trovate qui sotto in descrizione e nelle schede in alto a destra Sei bravo, bravo, bravo Grazie, grazie, grazie Quindi ragazzi, siamo qui in un posto un po' così, in piscina Da mente dei soldi che abbiamo su YouTube, abbiamo comprato una piscina Guarda qua, guarda qua, guarda Cioè Piscina atterrata, cioè scavata in terra Guardate qui, che c***o vuole Zecco? Quindi ragazzi, un bel like e incominciamo subito con le domande E se non siete iscritti? Iscrivetevi Grazie La prima domanda ce la fa Dennis Gamer, facciale Come ti sentiresti se arrivi a 100.000 iscritti? Perché lo dovrebbe sentire se tra un paio di mesi ci sarà arrivato? Hai finito? Sì Meno male Comunque ragazzi, cioè 100.000 iscritti sono 100.000 persone Cioè, sono tantissime E la cosa più bella, non forse la più bella, però Una delle cose più belle E fare tanti soldi con 100.000 iscritti A parte questo Ragazzi, avere la targhetta Mamma, ragazzi, la targhetta è una grandissima soddisfazione Eh, la targhetta è tanto, 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 tanto bella, devo dire la verità La prossima domanda ce la fa Mattia Memoli, trattino basso, 3 Facciale Chi è più forte a Clash Royale? Grandi, mi salutate Ciao Mattia Io, Enzo, devo dire la verità Il più forte, ragazzi Voi dovete sapere, io ve la dico sta cosa No, no, non la devi dire Ragazzi Sul suo canale Dove avevamo fatto una battaglia A quanto tempo fa, dillo però Non mi ricordo Molto tempo fa Avevo vinto io Kazoo che ha fatto Ha tagliato la partita E ha detto che si era stoppata la registrazione Bastardo Bastardo Comunque, ragazzi, lui pure è forte, però Lui pure è forte, no Io sono pure il più forte di te Enzo, devi dire la verità No, se facciamo le amichevoli, ti sfondo Ma che c'entra? Conta i trofei Conta i trofei, chi è più forte? Ma va c***o Chi è più forte? C'hai più 200 trofei in più Cosa? Io sono arrivato a 4400 Tu sei a 3007 3008 Amma registra Questa domanda ce la fa Mister Munt 04 Facciale Vorresti un altro fratellino o una sorellina? Ciao Mister Munt Uno bassi avanzi Allora, io direi che Cristian È un grande Io vorrei sinceramente Una sorellina Una sorellina anche io la vorrei Una sorellina Una sorellina da difendere Una sorellina sì Eh sì Ci voleva una sorellina Cristian Longobardi28 ci chiede Facciale, vi piace più Enzo Dong O Gali? Siamo in Italia Uno Una sorellina E' già il più droga delle vele Enzo Dong Mi diverto solo se A morire di guai A morire di guai Eh ma siamo registrati Ho detto 5 minuti Avresti mai pensato di arrivare a tanti iscritti? No, se non No, no Mai Io credevo di fermarmi ai mille Già era un grandissimo traguardo Credevo di fermarmi ai cento più o meno Pure io ho cento iscritti Cento Potresti mai arrivare a un milione di iscritti? Eh, è dura Eh, raga È un po' troppo difficile quei numeri È difficile un milione Però con impegno Però vabbè Noi già abbiamo creato un qualcosa Lui pure Abbiamo creato un qualcosa Che ci fa felici tutti i giorni Esatto Per me va bene così Per ora Che veniamo ascoltati Già da un grande pubblico Eh sì Cioè già essere ascoltati da cento persone è tantissimo Sì Figurate numeri che vanno oltre i cinquemila Eh sì Sono tante Sono tante Ciao Alessandra E salutiamo anche il canale YouTube Gentiale Allora Noi ovviamente ringraziamo anche tutti gli altri Che hanno fatto le domande Grazie ragazzi Eravate in tanti Esatto Seguitemi su Instagram Shaleboom Non è vero Non lo seguite Non lo seguite Niente ragazzi Il video può finire qua Mi raccomando lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Passate dal canale di KatoSan Di solito Ciao raga Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ci vediamo al prossimo Bella Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti